Verso una svolta. Il futuro del Vittoria è appeso ad un filo. Dopo una settimana di passione si profilano alcune novità all'orizzonte per il Vittoria Calcio. Mentre la squadra prepara la difficile trasferta di Ragusa, un derby carico di significati che potrebbe risultare determinante per le sorti del campionato, i dirigenti stanno cercando di districare la matassa societaria. La frattura tra il gruppo catanese guidato da Di Paola e Mascara è ormai insanabile. Mascara e Di Paola vogliono rimanere al Vittoria ma chiedono che Barra Vecchia lasci subito la presidenza. Quest'ultimo sostiene di avere già lasciato la presidenza tre settimane fa. Ovviamente si tratta ora di mettere a nero su bianco e soprattutto di dirimere la carella economica su cui non c'è affatto accordo. Martedì scorso Claudio Lamattina si era proposto come presidente con un ruolo di pacere tra i due gruppi. Lamattina chiede anche delle garanzie e vuole che il futuro presidente sia un vittoriese. Ma la proposta di Lamattina ora è tramontata, non se ne fa nulla. Il gruppo catanese intenzionato a fare da solo risolverà i problemi societari. Barra Vecchia potrebbe rimanere nella società fino alla fine della stagione ma non potrà più essere presidente né avere ruoli gestionali. Di Paola annuncia che se la gestione del vittorio rimarrà a loro arriverà un attaccante di categoria, un giocatore che potrà far fare il salto di qualità. Il destino del vittorio è appeso ad un filo, si deciderà tutto in tempi brevi. Intanto si cerca di dare serenità alla squadra che prepara il derby contro il Ragusa. I tifosi si stanno organizzando con l'orecchio teso alle notizie che arrivano.